Coltiva il sentimento sincero dell'amicizia perché soltanto così attirerà i veri amici. La vera amicizia si fonda sull'aiuto reciproco. Offri ai tuoi amici l'allegria nei momenti di sconforto, la compassione nei momenti di dolore, il consiglio nel momento del dubbio e l'aiuto materiale nei momenti di estremo bisogno. L'amicizia è la condivisione sincera delle gioie e delle avversità. Nell'amicizia si rinuncia con gioia per la felicità di un amico ai piaceri egoistici o al proprio interesse senza pensare alla perdita o al sacrificio e senza calcolare il prezzo. Non essere mai sarcastico con un amico. Non adularlo a meno che tu non lo faccia per incoraggiarlo. Non dargli ragione se è nel torto. Se c'è vera amicizia non si può assistere con indifferenza alla felicità falsa e disastrosa di un amico. Ciò non significa che devi discutere con lui. Prova a dargli mentalmente un suggerimento. O se hai richiesto il tuo consiglio donalo con amore e gentilezza. Gli sciocchi litigano. Gli amici discutono delle loro differenze. Paramansa Yogananda. Come amare ed essere amati.